Oggi Isernia festeggia il suo santo patrono, ci troviamo davanti alla chiesa San Pietro Celestino qui nel centro storico del capoluogo Pentro, molto ricco il programma sia religioso che civile innanzitutto in questo momento qui all'interno della chiesa è in atto la santa messa ma poi c'è anche la fiera, tante i commercianti, le bancarelle che si trovano qui al centro storico e molto buona anche l'affluenza degli Isernini nonostante il cattivo tempo. Si è vero, questa è una tradizione che si deve portare sempre avanti, non dobbiamo perdere l'occasione per la festa di San Pietro abbiamo pensato di fare questo qua, si 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 insomma è molto 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 legato è il protettore di Isernia, è il nostro patrono. La festa che sono Isernini insomma e vengo sempre qua ogni anno quasi. Forse prima era sentita un po' di più? Forse un po' di più, le cose vanno sempre un po' scemando, non so, perché poi magari i veri Isernini ce ne stanno anche di meno, allora questi che arrivano, la loro tradizione non lo so insomma. Dovremmo oggi il santo patrono di Isernia, San Pietro Celestino, un momento importante per la cittadinanza soprattutto da un punto di vista religioso, visto che comunque c'è un forte legame con questo santo. Certamente tutta la città di Isernia è in festa per il suo patrono ed è una figura di santo importante anche per chi compie un cammino di fede perché è un modello da imitare. Difatti la Chiesa eleva gli onori degli altari, i santi proprio proponendoli come modelli di vita cristiana. L'esempio che San Pietro Celestino può darci è sicuramente quello della benegazione e della dedizione alla Chiesa. San Pietro Celestino è anche per noi esempio di umiltà perché riesce ad un certo punto, dopo essere stato eletto pontefice, a rinunciare al pontificato perché voleva continuare a dedicarsi alla preghiera al Signore. E in attesa della processione che porterà il busto di San Pietro Celestino su in cattedrale, abbiamo chiesto al demologo Mauro Gioielli informazioni sulla vita del santo e Mauro Gioielli ci ha dato anche alcuni particolari molto molto interessanti. Uno dei papi più discussi della storia della Chiesa proprio per la rinuncia, famosa rinuncia al papato, anche se poi anche altri papi hanno fatto lo stesso. C'è una ricchissima bibliografia su di lui, quindi un santo molto studiato anche perché è un'epoca particolare. È nato, sull'anno di nascita ci sono delle incertezze ma grosso modo dovrebbe essere nel 1215 e poi è morto nel 1296, quindi ha attraversato un intero secolo.